Il film è tratto dal libro di Giancarlo De Cataldo, ma nel passare dal libro al film C'è qualcosa di autobiografico di tuo nel rapporto tuo con il tuo papà, cioè nella crescita del papà? Ma non lo so, nel senso che c'è sempre qualche cosa, portiamo sempre nelle cose che facciamo uso il plurale, nel senso parlo degli scengiatori, di chi scrive la storia e di chi la mette in scena penso a Graziano Diana, Simona Izzo, è ovvio che ognuno porta il proprio vissuto e quindi e però poi piano piano prende le forme di battute, di personaggi che non sono più il motivo ispiratore quindi indubbiamente c'è qualche cosa di intimamente nostro nel film. Un cast internazionale, una ragazza russa, un uomo italiano e un arabo, i motivi della scelta? I motivi della scelta, intanto sono tre attori straordinari Alessandro lo conosco da sempre, è quasi un fratellino, diciamo così è più fratello lui di mio fratello Gianmarco che io quindi lo conosco, l'ho visto crescere, l'ho visto crescere nella vita e l'ho visto crescere proprio nella sua professione, è diventato un attore straordinario e Walid Amra Waked, l'attore egiziano, l'abbiamo trovato attraverso una lunga ricerca avevo visto i suoi lavori, l'avevo visto recitare e quindi è venuto in Italia, ci siamo conosciuti e lui si è messo a studiare l'italiano ha voluto fortemente fare questo film, si è appassionato talmente tanto al film che poi è diventato anche coproduttore e invece Xenia è un'antica passione, ormai di famiglia perché è stata la protagonista anche del film di Maria Sole è un'attrice straordinaria, dobbiamo attornatore, diciamo così il fatto che in Italia ormai la consideriamo un po' nostra perché è diventata un'attrice quasi italiana ma detto questo il film racconta un mondo ormai globalizzato ed è diventato anche in Italia una sorta di melting pot come lo è stato a New York nel passato e come lo sta diventando oggi non siamo più un paese a crescita zero grazie ai tanti ospiti che sono qui con noi e quindi insomma grazie a loro la nostra cultura si sta arricchendo di tante cose, di tante cose nuove da scoprire grazie a tutti